Tra otto giorni il Giro d'Italia farà tappa a Fano, un evento che avrà una rilevanza mediatica mondiale ma che secondo voi la Giunta Seri non è capace di gestire, per quale motivo? Sì, io sto ricevendo veramente decine, sono centinaia di segnalazioni ogni giorno che mi chiedono che cosa succederà quel giorno perché oltre alla chiusura delle scuole che è arrivata qualche giorno fa, ancora non si sa come verrà modificata la viabilità quindi io ho segnalazioni di cittadini che quotidianamente mi chiedono se potranno raggiungere l'ospedale, se potranno andare al lavoro se potranno andare ad esempio in centro storico perché ci sono tante attività economiche che dovrebbero lavorare che non sanno se potranno aprire perché non sanno se i propri dipendenti potranno andare al lavoro quindi io purtroppo denuncio questa mancanza di preparazione per gestire un evento molto importante sulla quale abbiamo lavorato tutti, anche io come consigliere regionale ho portato oltre 100.000 euro di emendamento per finanziare le attività collaterali al Giro d'Italia che è una grandissima vetrina per la nostra città ma che purtroppo stiamo gestendo molto male anche sulla parte comunicativa sono stati fatti degli errori grossolani come invertire l'arrivo della tappa come se fosse Fano Martinsicuro quando invece è Martinsicuro Fano ma anche altri dettagli che purtroppo sono stati scritti male quindi lo vediamo ogni giorno con gli asfalti purtroppo si vede una mancanza di preparazione per gestire eventi di questa portata io chiedo programmazione e chiedo all'amministrazione di fare luce su quello che succederà quel giorno grazie a tutti